Oh allora eccoci qua Quanto tempo che non ci si vede eh Tanto eh tanto Sono successo un sacco di cose Nel frattempo mi si sono sfacciate le cuffie Ho fatto 18 anni Sto bestemmiando attivamente contro la motorizzazione Che non vuol farmi fare la patente Ci abbiamo gli esami di maturità tra un po' Quindi le bestemmie salgono sempre di più Ma non siamo qui per parlare di questo Bensì ti stai fermo Ok Bensì oggi siamo qui per parlare della stagione dell'intrepido Perché come tutti quanti saprete Il 10 marzo ovvero la prossima settimana Inizierà la nuova stagione di Destiny 2 La stagione dell'intrepido La stagione numero 10 Che a detta degli sviluppatori dovrebbe essere La stagione prima di quella Grandissimo evento fantastico Che sarà poi la stagione 11 E che sarà qualcosa di inaspettatissimo Incredibile e strabiliante Quindi essenzialmente in questo video cosa andremo a fare Abbiamo raccolto nei giorni passati Un po' di vostre opinioni Riguardo a questa nuova stagione Un po' di opinioni Un po' di speranza Un po' di preoccupazioni appunto Riguardo a questa nuova stagione Ma prima di iniziare Vi ricordo che giovedì sera alle 21 Saremmo in live qua su YouTube Per fare un'altra Un'altra del nostro live Un po' di resoconto di questa stagione E anche di Shariokie Perché l'abbiamo saltata Per l'ultima espansione In cui chiacchiereremo un po' insieme Discuteremo delle stagioni passate Di quelle future Di dove vuole un po' andare a parlare Vangeli Tutto quello che essenzialmente vi pare Ma andiamo subito a parlare Di questa stagione dell'intrepido Innanzitutto come tutti saprete Le fondamenta impide sono terminate O perlomeno abbiamo donato Quello che ci serviva in frattalina E abbiamo in qualche modo sbloccato Tra virgolette Molte virgolette All'ora di community Le prove di Osiris Delle fantastiche prove di Osiris Che finalmente Tornaranno con la prossima stagione E a questo grande ritorno La mia domanda È una e una soltanto Le prove Staranno effettivamente L'unica nuova attività Della stagione? Che rende un po' in giro Visto che comunque È una preoccupazione Un po' generale Nel senso che anche voi Pensate bene o male La stessa cosa Abbiamo un po' tutti paura Che le prove Siano l'unica cosa Degna di nota Che verrà poi aggiunta In questa nuova stagione Per carità Il ritorno delle prove È sicuramente Una grandissima cosa Io l'ho detto E lo ripeterò Fino alla morte Un'attività È fatta dal suo loot In un gioco come Destiny Quindi anche qua Speriamo che Le prove Abbiano un buon loot Già il fatto Che abbiamo visto Le stesse identiche armature Di Destiny 1 Sì Per i nostalgici È una buona cosa Nel senso che Può piacere Però Non mi sarebbero dispiaciute Magari Dei decori O qualcosa Che possa un attimino Rinnovarle Per quanto riguarda Le armi Non ho visto Precisamente Se ci saranno Armi nuove Ho visto sicuramente Che verranno aggiunte Armi Lui si ride Ma non ho fatto caso Se saranno armi Inerite nuove Di Destiny 2 O si saranno anche Presi dai Destiny 1 Spero di no Però sicuramente Il ritorno delle prove È una grandissima cosa Una cosa che stavamo aspettando Tantissimo Tantissimo tempo E devo dire Che è una cosa divertente Raga Le prove In 3v3 In eliminazione Sono qualcosa di divertentissimo Perché Si fanno In poche persone Tre amici Due amici Li trovate subito Perché non ci vuole niente A trovare due amici Anche semplicemente Su The Tower Due persone Le trovate subito È un'attività come le prove Quindi Anche con il fatto Che arriva di venerdì E quindi Bisogna in qualche modo Aspettare il fine settimana Per poterle giocare Secondo me Potrebbe veramente Risollevare un pochino Il morale della community E proprio Al discorso Del fatto che arrivano venerdì Voglio Porvi un'altra domanda La nuova season Inizierà il 10 marzo Mentre le prove Arriveranno il 13 Quindi il venerdì Successivo Appunto Al martedì In cui uscirà La nuova season Di conseguenza Io spero Confido in Bungie E soprattutto La prego Di darci subito Qualcosa da fare Nel senso Non è che il 10 Inizia la nuova stagione Ma Non c'è niente di nuovo Magari nemmeno Gli engrami luminosi Che ormai Sono riciclati Dall'anno 1 Magari collegare Un qualcosa Una quest Una storia Ho detto una parolaccia L'avete chiesta anche voi Ragazzi Ma La vedo molto dura Però una mezza storia Collegarla appunto All'ultima cinematica Che abbiamo visto Di Osiride Che va A combattere Tra virgolette Contro Rasputin Va a porgli un ultimatum E tra l'altro Una piccola curiosità Non so se Non so come state messi Ad aggiornamenti Riguardo a questa cinematica Se l'avete vista Se avete sentito Un po' di teorie Però sembrerebbe Io vi dico solo Quello che so Poi Vi lascio A tutte le Speculazioni che volete Ne parleremo Magari anche giovedì In questa cinematica In pratica Osiride Va da Rasputin Gli pone un ultimatum Gli dice Luce o oscurità E l'ultima cosa Che si sente È la voce di Rasputin Che parla Che per lì Non si capisce Perché è la solita Voce di Rasputin Però se entrate In una modalità Inglese Quindi Venendo il trailer In inglese Essenzialmente Capite Molto molto facilmente Che Rasputin Dice darkness Quindi Anche lì C'è uno spunto Un po' Così un po' Interessante Diciamo In generale Comunque ho visto Che l'Elementelo Comunque le speranze Riguardo A questa nuova season Anche da parte Vola strassono Il fatto che Vi siete un po' Stufati Ci siamo un po' Tutti stufati Di vedere cose Pese da di uno Vogliamo attività Nuove Vogliamo cose nuove E sono d'accordo In parte Nel senso che Un'attività come le prove Secondo me Non invecchia mai Quindi Ci sta che venga raggiunta Anzi Non ci stava che L'avessero tolta All'inizio del gioco Però ovviamente Va sempre migliorata Quindi nuove armature Nuove armamenti Magari anche Nuovi obiettivi Nuove modalità E via via In generale È vero Bungie In questa ultima season Ma anche un po' Per mancanza Di contenuti effettivi Si è soffermata Un po' troppo Su bilanciamenti Nerf E robe varie Che sì In qualche modo Servono Perché È importantissimo Dalla settimana prossima Se non sbaglio L'erentil tornerà Ad essere Un'armetta Una cosa umana Non lo so Però è anche vero Che passano un po' In secondo piano Queste cose Se non ci sono Dei contenuti di base Per quanto riguarda Invece la storia Un po' tutti siamo Qui Attendiamo una storia Vogliamo Qualcosa di lore E ho visto che Alcuni hanno azzardato Delle ipotesi Riguardanti l'ignota Che Devo dire Non sarebbe Poi tanto scollegata Perché abbiamo visto Che l'ignota In qualche modo È collegata Allo siride Abbiamo visto Che potrebbe essere La sorella di Anna Bray Quindi sarebbe In qualche modo Collegata a Rasputin Quindi Idealmente l'ignota Potrebbe anche starci Ma non Non è veramente Buttata via così Però Però Se ce la mettono Motivata Non ci fa schifo Quindi Io non voglio dilungarmi troppo Voglio solamente Darvi appunto Questi spunti Che sono anche un po' In preparazione di giovedì Noi ragazzi Vi ho detto Gli impegni sono tanti Tra scuola e tutto Però Cerchiamo di ricominciare Questa Questa season Questa Nuovo ciclo Di The Chestplate Sia ovviamente Per quanto riguarda Destiny Sia ovviamente Per quanto riguarda Le nuove serie Per chi vi ricordo Che il 20 marzo Esce Doom Eternals E lì abbiamo Tutta la serie Appunto Dal 20 in poi Poi ovviamente Più avanti Tralasciando i giochi Che sono stati rimandati Quindi Avengers Cyberpunk Saranno poi A settembre Ma già a maggio Abbiamo The Last of Us 2 Quindi mi raccomando Rimaniamo Aggiornati Ci sono Tanti fruggetti Tante cose Ragazzi commentati Come dei pazzi Io vi aspetto Giovedì Sera In live Insieme Probabilmente anche A Raika Chiaccheremo Di tutto quello Che vi pare Speculazioni Teorie Speranze Bungie Dacci tutti i soldi Del mondo Non penso E detto questo Ci vediamo alla prossima Ciao